C'è attesa per il nuovo summit del centrodestra in cui si faranno i primi nomi dei possibili candidati alla carica di sindaco di Isernia in ottica delle elezioni amministrative in programma tra maggio e giugno 2021, almeno quella sarebbe la scadenza naturale, ma che si ipotizza potrebbero slittare a settembre. Nella precedente riunione, cioè quella che ha sancito la rottura tra gli altri partiti e fratelli d'Italia, è perso evidente che non ci sia la disponibilità a riproporre l'uscente Giacomo D'Apollonio. Nessuno lo conferma, ma evidentemente la voce è arrivata alle orecchie del diretto interessato, che finora non ha chiarito peraltro la sua volontà a tentare un secondo mandato e che in uno sfogo durante conto alla rovescia ha manifestato l'amarezza per il veto messo sul suo nome. Credo che sedersi a un tavolo come rappresentanti di partiti politici di centrodestra o di movimenti centrodestra e cominciare a sedersi, cominciando a fare veti, a fare pregiudiziali, a isolare, a togliere dei nomi, subito da sgombrare il tavolo dai nomi, questo no, quest'altro no. Credo che sia il modo peggiore per poter… questo è un atteggiamento altamente divisivo che non porterà a nulla, non farà frutta. Adesso parliamo di temi, parliamo di programmi e troviamo poi la sintesi sul nome. Cinque anni di diatribe interne al centrodestra hanno provato da Pollonio, che oggi afferma quelle critiche mosse solo dalla voglia di visibilità e non dall'impegno per Isernia. I motivi sono essenzialmente motivi di visibilità politica, motivi di potere, di possibilità di incidere sulla cosa pubblica. Solo questo. Non ci sono stati temi, a me non è stata mai fatta, questo lo dico senza tema di smentito alcuna, una proposta che sia una. Non è mai pervenuta una proposta protocollata dal Comune di Isernia da parte di consiglieri comunali che mi proponessero di prendere delle iniziative, di proposte per migliorare la qualità della vita dei cittadini, per migliorare l'aspetto della nostra città, oppure di interventi sul sociale, mai una proposta.